Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, tanto per cambiare, al solito ben ritrovati qua nel classico, usuale e ben noto disordine della mia libreria. Allora, 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 torniamo a parlare di Wunderwaffen, torniamo a parlare di armi meravigliose, torniamo a parlare di come sprecare soldi, tempo, risorse per far contente le seghe mentali di Hitler, ok? Allora, 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 quanti di voi hanno sentito parlare della cosiddetta V3? La V3, la V3, meglio nota come, chiedo scusa per il mio pessimo tedesco, ma nota anche come Hochdruckpumpe, ovvero sia pompa ad alta pressione, che non era una pompa, in realtà era un pezzo d'artiglieria a camere di scoppio multiple. Praticamente si tratterebbe di questa installazione qui, ok? Vedete? Questo sarebbe il piano, cioè come vedete si trattava di un pezzo d'artiglieria in cui varie camere di scoppio, queste, si accendevano una frizione di secondo dopo il passaggio del proiettile per, diciamo, fornire una spinta supplementare al proiettile. Allora, il V3 fu progettato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Era, ripeto, un super cannone che lavorava, come vi ho spiegato, in base al principio della cosiddetta multicarica, che era stata inventata, se non ricordo male, da un inglese o da un francese a metà dell'Ottocento, ma sto andando a memoria e non vorrei dire cazzate. Allora, l'arma era stata progettata dall'ingegner Künders e veniva chiamata anche Thousand Fussler, millepiedi. Eccola qua. Il soprannome direi che è abbastanza evidente, perché il millepiedi era, diciamo, doveva bombardare Londra da una distanza di circa 165 chilometri da una postazione al nord della Francia. Due grandi bunker erano. Allora, il V3 era conosciuto anche con il nome, vabbè, Arma Künders, dal nome del progettista, V3, W3, l'arma di rappresaglia numero 3 dopo le V1 e le V2, ed era conosciuto anche con il nome di Hochdruckpumpe, cioè pompa ad alta pressione, HDP. Usava, come vi ho già spiegato, più cariche propellenti posizionati lungo la lunghezza della canna. Ok? Si vede? E queste, ripeto, queste cariche, queste cariche supplementari di propellente, si mettevano in azione al passaggio del proiettile per fornire una maggiore spinta. Un sistema che, ripeto, era stato inventato a metà, 800, non mi ricordo sia in Inghilterra o in Francia, comunque sia. Erano disposte, come si vede, a coppie simmetriche angolate per garantire una spinta supplementare ottimale. Dovevano proiettare quindi queste camere di scoppio la loro spinta contro la base del proiettile che passava e la gittata avrebbe dovuto essere aumentata. L'arma poteva sparare granate da 140 kg anche a 165 km di distanza. Azzarola. Però c'è da dire che l'uso di questa arma fu decisamente scarso, per non dire nullo. La fortezza, la postazione della V3 era a Milmoiek. È un complesso militare completamente sotterraneo, scusate, un po' di tosse, vicino a Landratune-le-Nord, nella regione del Passo di Calais. Fu costruita la fortezza di Milmoiek tra il settembre del 43 e il luglio del 44, proprio per ospitare una batteria di V3 che dovevano bombardare Londra, che da lì distava soltanto 165 km. Uno studio effettuato all'inizio del 43 aveva dimostrato che era il luogo ottimale dove posizionare proprio il V3 al fine di ottenerne le massime prestazioni. Il V3, secondo tutti gli studi fatti, doveva trovarsi all'interno di una collina con un nucleo di roccia nella quale le derive inclinate, queste, potevano essere incanalate per sostenere le canne. Il maggiore boc del Festungspionerstab, numero 27, era responsabile delle fortificazioni marittime con sede vicino a Dieppe, proprio il posto dove ci fu il fallito sbarco dei commandos, proprio quello. Individuò questo sito ideale in una collina calcarea nei pressi del villaggio proprio di Milmoiek, che aveva un sottile strato di terriccio e all'interno lo strato calcareo si estendeva per alcune centinaia di metri in profondità. Ed era anche abbastanza facile da scavare. La parte terminale in superficie era protetta da una lastra di cemento larga 30 metri e spessa 5 metri e mezzo, con strette aperture che consentivano il passaggio dei proiettili a seconda dell'angolazione che veniva data. I lavori di costruzione furono eseguiti da più di 5.000 tra operai e ingegneri, per lo più tedeschi, oltre a 430 minatori provenienti dalla RUR e c'erano anche molti, come dire, prigionieri di guerra sovietici. Ovviamente l'intelligence alleata fu informata del progetto e gli alleati si accanirono contro la fortezza con ripetuti bombardamenti aerei. Però oggettivamente danneggiare 5 metri di cemento armato è un po' difficilino. Alcuni prototipi della V3 furono installate nell'isola polacca di Wohlin al confine con la Germania. E sembra che una V3 ridotta, più piccola, sia stata usata durante l'offensiva delle Ardenne, ma non ci sono molte notizie in proposito. Insomma, una delle tante, 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 tante Wunderwaffen pressoché inutili ideate dai tedeschi. Allora, siamo sinceri, questa è una parte dell'installazione sperimentale, non è la V3 vera e propria. Questa è quello che vedete una parte della fortezza di Mimoyek. Il V3 fu l'ennesima dimostrazione dell'incapacità tedesca di quello che doveva essere un'arma strategica. Allora, al costo, siamo sinceri, un Lancaster, un singolo Lancaster, un singolo Lancaster costava una centesima parte di una V3 e portava e portava su tutto il territorio del Reich una quantità di esplosivo cento volte maggiore, più e più volte, rispetto all'ingegnoso, ma bellicamente inefficace e complicato sistema a camere di scoppio. Soldi, 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 soldi buttati nella tazza del cesso. Perché? Perché a Hitler piaceva grosso il cannone. Forse per compensare. Non mi fate essere troppo cattivo nei confronti del caporale perché dopo non la finiamo più. Ripeto, l'idea del cannone a camere di scoppio multiplo poi tra l'altro fu anche ripresa da Saddam Hussein tra gli anni 80 e 90 e diciamo che ci fu anche qualcuno che ci lasciò le penne perché il progettista del super cannone di Saddam Hussein fu fatto fuori dal Mossad israeliano perché sapete bene che col Mossad non si scherza. Quindi ripeto, il V3, il V3, o armakünders, o tausendfüßler, millepiedi, una delle tante, tante, tante Wunderwaffen, una delle tante inutili Wunderwaffen tedesche. Un'idea forse brillante ma sicuramente inutilizzabile a livello bellico. Gli alleati, ripeto, un bombardiere alleato costava una centesima parte del V3, portava molto più esplosivo più e più volte sul territorio del Reich. Figa tu a bombardare Londra con 140 kg di esplosivo per volta. Per quanto che potesse essere brutto, per quanto che potesse essere come dire una soluzione per bombardare la capitale del nemico, cioè tu la guerra non la vinci a quella maniera, detta così com'è, perché sarebbe stata poco più di una puntura di spillo e difatti l'installazione di Mimoyek fu sempre pesantemente attaccata dall'aviazione alleata, sempre, e riuscirono e praticamente il V3 non fu mai usato per sparare su Londra, per tirare su Londra. Ripeto, sembra che un esemplare più piccolo sia stato usato durante la battaglia delle Ardenne, ma non se ne sono mai trovate le prove. Un'altra delle tante idee balsane, delle tante trovate che facevano, che piacevano tanto ad Adolfo. Che vi devo dire? Specialisti nel buttare soldi, specialisti nel fare eccitare sessualmente gente che non ha niente di meglio da fare e specialisti nel far la fortuna dei creatori di modellini e di diorami. Ho visto una volta ad una mostra di modellismo, non sono un modellista ma il modellismo mi interessa, dicevo, ho visto una volta a una mostra di modellismo un diorama dell'installazione di Mimoyek, veramente bello, però oggettivamente siamo sinceri, bello o non bello, interessante o non interessante. Era decisamente una cosa assolutamente inutile. Siamo sinceri, a che cazzo serviva? Se non a far contento Hitler e soprattutto a evitare il fronte russo all'ingegner Kenders. Può darsi tutto lì. Quindi, cari signori, il sottoscritto vi ringrazia per l'attenzione, vi saluta e come sempre arrivederci al mio prossimo video.